Giungono nuovi particolari allo scenario emerso dalle carte dell'operazione Genna negli scorsi giorni in cui i carabinieri del gruppo di Aosta e del raggruppamento operativo sociale, coordinati dalla DDA di Torino, hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti membri della locale di Aosta e dei politici locali. Si tratta del progetto delle cosche calabresi Nirta Scalzone di San Luca. L'emergere di una nuova storia che necessita di approfondimento concerne il progetto di organizzare un sistema di importazione di cocaina dal Sud America. Testimonianza giunta dal pentito piemontese Daniel Panarinfo che sarebbe stato in Spagna con i fratelli Giuseppe e Bruno Nirta di San Luca, adoperandosi per organizzare il traffico di cocaina con Xavier Costa. Insieme avrebbero dovuto aprire una ditta che fa importazione di succhi di frutta per riuscire ad importare così cocaina liquida dal Sud America. Panarinfo sarebbe stato incaricato da Bruno Nirta di trovare 200.000 euro. Vari furti sono stati progettati che però si conclusero con nulla di fatto. La decisione finale di Daniel Panarinfo fu quella di fuggire in Italia e iniziare a raccontare tutto ai carabinieri.